Nel 2009 era una tendopoli, ora è uno dei pochi stadi d'Italia senza barriere, ma per il futuro il Gran Sasso si candida a divenire un vero e proprio polo di rigenerazione urbana e territoriale di riferimento per il centro-sud, con riqualificazione dello stadio, costruzione di un nuovo centro sportivo e di un academy center, nuova viabilità e parcheggi. Il progetto si chiama Non è solo calcio, lo stadio verrà concepito come nuova centralità urbana, basata sui valori dello sport e dell'inclusività, inteso come luogo di vita sociale, incubatori di idee e start-up, luogo di formazione e crescita di giovani calciatori e calciatrici, laboratorio per nuove tecnologie, energie rinnovabili e digitalizzazione. Sarà creata una polisportiva che ingloberà, oltre al calcio a 11 e al calcio a 5, altre discipline. L'Aquila 1927, club interamente di proprietà dei tifosi, è la prima società che in 95 anni di storia ha preso in gestione lo stadio e si è messo in atto con il Comune un vero e proprio patenariato pubblico-privato, con un investimento di 10 milioni per il primo lotto di fondi a valere sul PNRR e altri fondi per il secondo derivanti da investimenti privati. L'idea progettuale accantona l'idea di stadio come struttura marginale, lo rende invece interconnesso con la città, capace di ospitare iniziative e vissuto sette giorni su sette. Stadio senza barriere sostenibile, ma sarà anche un connubio tra sport e cultura, con un teatro da 400 posti, non ci sarà consumo di suolo. A fine marzo partirà il cantiere dell'Otto Nord e con la curva da 2000 posti coperta. La Capienza, che ora è di 6.100 posti, raggiungerà i 7.500. Il progetto prevede anche locali commerciali, bar, foresteria, porterà anche nuovo lavoro. Sarà uno stadio all'inglese, tutto coperto, 7.500 spettatori di Capienza, però la particolarità sarà proprio quella di poter essere vissuto tutti i giorni della settimana, perché ci saranno delle attività nella pancia delle strutture, quindi anche commerciali, oltre che di supporto all'Academy Center che si andrà a realizzare alle spalle della Curva Nord e sarà appunto un gioiello dal punto di vista della sostenibilità, sia energetica sia gestionale. È un investimento importante di rigenerazione urbana e come tutti gli interventi di rigenerazione urbana, anche rigadute sociali, si darà una sistemata a quest'area, ma soprattutto si rafforzeranno gli sforzi che sta facendo la società, soprattutto nei giorni in cui sta per partire il crowdfunding. L'amministrazione comunale, come fatto in passato, è pronta a fare la sua parte. Il progetto stadio è parte integrante della campagna di equity crowdfunding, partirà il prossimo 21 marzo e grazie alla quale ognuno potrà diventare socio del club. L'equity crowdfunding andrà a finanziare non la parte sportiva di questa società, che si continuerà a sostenere con i mezzi canonici, classici, ma progetti tipo quello dello stadio, quindi immagino all'interno di questo impianto un Academy Center, immagino il patrimonio immobiliare che verrà generato alla fine della conclusione di questo percorso. Quindi sì, l'equity crowdfunding è importante, gli azionisti che parteciperanno a questa raccolta fondi lo faranno per contribuire anche alla costruzione di un impianto moderno, ecosostenibile, nuovo, ancora più al passo con le necessità del nostro club. Grazie a tutti.